gentili telespettatori buona giornata e così non sorgia ma giorgia meloni diciamo che approda su tutte le piattaforme social tutte non ne manca uno adesso c'è anche l'approdo su linkedin che il social dove principalmente si cerca lavoro si mette lì il proprio curriculum serve per 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 mostrare le proprie professionalità quindi è un social particolare telegram tik tok twitter facebook instagram e poi youtube che però non è un social network ma è un social media un media ecco così con l'ultimo approdo ora la meloni copre tutto l'arco costituzionale dei social dall'agenda di giorgia il video del primo maggio e giorgia meloni e il suo social manager ha capito che tutto passa su internet e sui social e così l'ultimo è proprio quello della della ricerca di lavoro il solo che mancava l'annuncio dello sbarco sulla piattaforma microsoft georgia meloni chiude l'intero arco costituzionale social da twitter a telegram da instagram facebook ora la meloni può scrivere postare praticamente a tutti i target e quindi all'intera popolazione la strategia digitale del presidente del consiglio è chiara e porta dei numeri consistenti dal primo marzo a oggi ha guadagnato 197.000 follower cioè il 3,86 per cento della sua fan base cioè della sua della sua base non elettorale ma la sua base che possiamo chiamare di seguitori ecco l'uso dello strumento social e centrale nel percorso comunicativo di meloni che sin dalle prime settimane a palazzo chigi anzi aveva già preparato il campo con contenuti linguaggi dobbiamo dire che bisogna fare una precisazione beh sui social sui social non ci sono le visualizzazioni o meglio voi non sapete quante persone hanno visto un post ma la meloni dai suoi con i suoi account da lì può vedere quante persone ha raggiunto un post quante volte è stato visualizzato un post ma le persone comuni questo non lo possono sapere ad esempio su youtube molti confondono e questo è uno sbaglio grosso molti la maggior parte la maggior parte guarda il numero di iscritti senza mai guardare il numero di visualizzazioni e l'errore sta proprio qui quindi su youtube quelli che guardano e valutano youtube dicono a quello lì c'ha 50.000 iscritti quello ce n'ha un milione quello ne ha 500.000 e valutano la penetrazione di un influencer in base al numero di iscritti ma è profondamente sbagliato almeno su youtube perché non è il numero di iscritti perché un canale può avere un milione di iscritti e poche visualizzazioni mentre un canale può avere pochi iscritti e enormi visualizzazioni e questo è dovuto da diversi fattori ad esempio il mio canale a 242 43 mila iscritti cioè insomma ci sono canali che ne hanno di più però poi vai a vedere le visualizzazioni e le visualizzazioni quasi 260 milioni sono da canale con oltre un milione di iscritti e quindi quindi bisognerebbe fare delle valutazioni perché il mio canale ha moltissime visualizzazioni e gli iscritti non sono così tanti perché ogni giorno su questo canale ci sono persone che si iscrivono e che si cancellano ad esempio ieri ci sono state 150 iscrizioni e 100 persone che si sono cancellate perché oggi parli bene di di maio e il fans di di maio si scrive domani parli male di di maio il fans di di maio si cancella e tutta una cosa così uno si cancella uno si scrive ieri si cancella oggi ma io pensavo che questo parlava bene di letta invece ieri ha detto una cosa positiva su letta oggi lo critica allora allora non è non è schierato a sinistra allora non è schierato a destra allora da che parte sta io mi cancello quindi c'è un turnover spaventoso questo canale avrebbe avuto 700 mila iscritti ma quelli che si sono cancellati sono tantissimi per fortuna il trend è sempre positivo sono sempre di più quelli che si iscrivono di quelli che si cancellano però questo è un canale che ha un turnover gigantesco mentre ci sono canali dove uno si iscrive poi si dimentica anche di essere iscritto poi ogni tanto va lì a vedere se c'è qualche video che gli interessa ma ecco quindi una cosa sono le iscrizioni una cosa sono le visualizzazioni ma tutti valutano il numero di iscritti a quello a 730 mila iscritti sì ma vai a vedere quante visualizzazioni c'è un canale qui che parla di di politica uno che parla di politica di sinistra che ha tra i 700 gli 800 mila iscritti ma 100 milioni di visualizzazioni meno di me 100 milioni di visualizzazioni meno di me ha come 170 milioni 180 milioni di visualizzazioni io ne ho 100 milioni in più però lui ha tre volte gli iscritti ecco insomma bisognerebbe fare delle valutazioni anche di un certo tipo anche di un certo tipo però spesso non vengono fatti si valuta un influencer in base al numero di iscritti iscritti forse un giorno ci sarà un comincerà ad avere un metro di misura diverso perché quello che utilizzano oggi è sbagliato si guarda gli iscritti ma hai visto le visualizzazioni e dove sono scritte e lì nelle informazioni ah no non le ho viste però ho visto il numero di iscritti bene pertanto come vi dicevo la meloni col suo social manager ha capito l'importanza dei social e del di internet che è diventato il principale mezzo di informazione degli italiani gli italiani guardano di più i social youtube eccetera eccetera della televisione però anche chi fa queste valutazioni diciamo che non ha propriamente una grande lungimiranza e questo ve l'ho spiegato tante volte il perché grazie a tutti e arrivederci a presto